Una sorpresa arricchisce la presentazione ufficiale del Catanzaro. Sul palco, allestito presso il parco commerciale Le Fontane, sfilano ad uno ad uno tutti i futuri protagonisti della prossima stagione. E fra loro c'è anche Daniel Onescu, centrocampista rumeno, classe 93, proveniente dalla Fidelisandria. Un ulteriore regalo alla tifoseria da parte della società presieduta da Floriano Noto. Questa sera abbiamo voluto regalare una festa ai tifosi giallorossi. Chiaramente la festa coincide anche con la presentazione ufficiale della squadra. Siamo quasi arrivati alla chiusura del mercato, diciamo, a Fidelisandria Costature e siamo a buon punto. Stasera ci sarà anche una sorpresa di un acquisto che è arrivato giusto da poco e annunceremo direttamente dal palco. Siamo tutti emozionati e ci auguriamo che questa gioia possa continuare durante l'anno e durante il campionato. Sul palco, prima dell'arrivo della squadra, buona musica con la Vasco Rock Show e tante risate con Piero Procopio ed Enzo Colacino. A condurre Simona Palaia e Luigi Grandinetti. Poi arrivano i giallorossi ed il pubblico si accende intonando cori ed inneggiando ai propri beniamini. Si torna a respirare aria di calcio a Catanzaro a pochi giorni dall'inizio della stagione. Sabato sera comincia a diventare la cosa seria, nel senso che ci sono i tre punti in palio, quindi abbiamo un po' parlato col mister, con il direttore sportivo, per cui siamo pronti al debutto. La squadra, chiaramente capite bene che siamo battiti in grande ritardo anche come preparazione atletica. Questa settimana faranno una preparazione a top e ci auguriamo che tutto vada bene, anzi, sicuramente cerchiamo di vincere. Fra i tifosi che hanno risposto in massa all'invito della società anche tanti giovanissimi, e proprio a loro è rivolto il messaggio della Presidente Noto. Il messaggio che dico è questo, ho visto parecchi ragazzini, parecchi giovani e questo è un grande entusiasmo perché i giovani sono la continuità di tutto, la continuità della società civile ma anche la continuità della società sportiva, in questo caso del Catanzaro Calcio. Quindi fate avvicinare i ragazzi, fate avvicinare i giovani al calcio, fate avvicinare ai giallorossi. Mi raccomando, stagite i medicini!